musica 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 togli proprio tutte le notifiche togli proprio tutte le notifiche che gente eh grazie mille Drakos98 benvenuto anche a te nella dpg3 nel sgheretbrother ora c'è cammino qui va no c'è già gente sono sotto di teteo io ok e qui raggiungo allora c'è già gente in disco sicuro c'è gente da me cioè non dove sono io ma qua di tu uh un pompa ho due medikit qua eh e poi mi serviranno io no arrivo 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 gabo no 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 molli ho caduto un altro hai fatto gabo questo? si ragazzo ce l'ho qua l'altro bravo teo ok che pale sta musica dai disco ragazzo ce l'ho qua davanti uno arrivo giù scappato via scappato via scappato via anche te questo gabo dai metto due guarda la mala di oggi intanto se non finisce sta musica ragazzi la faccio esplodere super come sta già cazzo gian francesca ragazzo che ho qua un altro eh ok l'ho visto si 71 bella grazie grazie sto arrivando da regalo mi continuano ad arrivare ste cazzo di notifiche c'è pieno pieno c'è notifiche in basso destra notifiche in basso destra grazie mille michele df 98 per la sub benvenuto nella dpg 33 nel sghera ora ci dire perché ha fatto la super non le notifiche però di epic games assolutamente sì ma di staso un euro primo in tendenza live grazie mille grazie mille magari può fare non è difficile superare fede con italiana a parte che non sono a rispondenza non fa per cento di abilità bambino ora ti guarda che è stato veramente del surreale col video però delle bozzette ne lascio bozzette per tutti i ragazzi il potere di svegliarsi per ragazzi ho lasciato le bozzette hai visto dove sono io proprio andrà a correre come un babbo beh però mi fa piacere che mai visto un po dalle stories però devi farlo durare di durare una settimana ogni settimana ci vado vai tranquillo ogni settimana poi si trasforma ogni mese che cazzo dici no devo andarci veramente bravo bomba 22 le due sere che è andato a correre alle dici dottor caos ragazzi sto cercando la sera è morto no fra io non ce la faccio avete prese le bozzette raga lì nella casetta non lasciate due non l'avevo lasciate due ormai remo non ci ti occupo più sto aspettando gli operatori italiani non vedo l'ora parabellum ho giocato a vegas 1 e 2 questo nuovo è carino però sai che si muore troppo velocemente c'è a volte non ha il tempo di reazione nemmeno capito è un bel gioco da quello che ho visto visto ieri qualche video con mollo e marzo secondo me è un bel gioco valido però il fatto che è così c'è questa rapidità nel fare ok stanno di fronte a noi a 56 56 stanno andando a fightare con un altro team guarda per il mio tappetino basta che lo vedi su lo vedi dal link di amazon che ho messo e grazie mille rider per la sub benvenuto rider 97 22 45 marco giordano 777 benvenuti entrambi nella dpg 333 ne sghere brother ora ci dovete dire perché avete fatto la sub e marco giordano serie 333 eri meglio andiamo 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 si si io sto arrivando dietro di te gabbo hanno appena fido il file pittato uno sta salendo sopra dove c'è quella piattaforma oh c'è davanti gabbo bello gabbo devi coprirti o non ti posso coprirti copriti copriti vabbè ma non mi entra il colpo ma che è sta merda l'ho cato vai bella morti aspetta ragazzi c'è un altro che stava sgattaiolando dietro eh what come l'ho bisogno di cura arriva in due raga da dove ma da dove a da sotto ok fatto uno dove sta l'altro ron ok lo vedo itado sotto di te ron esattamente sotto di te uno sotto di te gabbo uno sotto proprio di te gabbo pure no 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 ho sbagliato bello gabbo muori per favore dai non mi fare perdere la pazienza ma dove cazzo è questo qua che sento rumori raga se c'avete delle bende io ho un falò eh io ho 10 bende io ho le bende ma manca un tizio questo è il ron ma si ma è raga questo è uno che ho ucciso io lo sentivo più alla qua ma non lo vedevo più raga secondo me si è dato io non ho più colpi di r se vieni qua dove sono io io non ho più colpi di r qui c'è delle pozze raga ce n'ho una però ce l'ho a me va a farti anche cadere io a me non dispiacerebbe dai dai tomato 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 citato uno lo ha il tato con la skin quella lì dell'operatore speciale ah non li vedo da qua c'è un altro merda no raga chi è che c'è delle munizioni per il cecco ce n'ho io 36 ti servono a te si ti servono vieni 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 sto salendo si ma uno è sotto eh uno è sotto dovresti capire dove è quello col cecchino però io non vedo un cazzo ho fatto le scale ah raga dietro dietro anche dietro 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 a 195 stanno arrivando in tre ma verso di noi si no sono lontani eh ma arriveranno qua tra poco eh siamo in mezzo non ho anche ciacchinando alcuni eh due sono fuori un ponte uno è sotto di noi ha saltato raga non ci credo vittato è uno nel ponte Giorgio no lo vedo quello nel ponte sono due anzi sono due due nel ponte uno da domato che sta andando larghissimo ha saltato il proiettile ragazzi uno è a 3.30 eh quello con il cecchino ok noi siamo quanti qua sono in realtà dietro devo andare verso di noi uno ci vuole ragazzi ragazzi guardate a 2.93 fidatemi di me guardate a 2.93 cosa c'è ah due farta apporto bene eh lo so ma qua abbiamo anche altri qua devono pushare eh devono pushare questi stanno per venire da me vuoi che vengo lì no 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 ce la faccio no no ce la faccio ce la faccio l'importante è che c'è un altro e 30 che non so dove è sparito eccoli colpito uno di qua uno è caduto sotto io mi occupo di quello sotto ragazzi io non ho capito io lo sto guardando sinceramente che cazzo fa questo ha pushato carino ha delle pozzette aspetta capo dove adentrano in safe regà perché adentrano in safe ma che safe ho fatto parato ho anche un lancio addio eh raga eh lo dovremmo usare per andare addosso a quelli quale dai due voi chi vi piace di più magari ce l'ho ancora qua il tizio qua sotto di me ah da me 56 78 ok manca il compa eccole i ragazzi stanno pushando gli altri gli stanno tirando le granate nooo ah eccoli dove sono eh gabbo provo a rionimarti gabbo io provo a coprire copri tanto ci ho già speriamo che non ti facciano che non ci facciano a sto punto eh perché se ti fanno a me fanno anche a te z si dai grazie zio come to the fight 15 secondi raga resistete madonna sono morto sono morto sono morto ho 6 hp bravissimo manca l'altro manca l'altro bravissimo ah gli ho sferato e io mi devo curare con la vita che ho non posso allora curati fateli pressing così quello è un altro quello è un altro quello sotto arrivo mollo quello nel portaporto nel portaporto lì è bianco vabbè basta un cuo andiamo a pushare questo ok quello è andato dov'è l'altro scusatemi è sotto non ce n'era uno qui sotto che ci stava sparando raga è morto qua raga dal porto sono andati via occhio cioè uno era bianco quando li ho sparato io dov'è mollo non ho capito no era qua sotto non lo vedo più che ha fatto queste scave è lui ritato una volta ritato due bella bravi raga qua trovi due erano nel portino lì cioè uno era bianco ma dovranno uscire eccolo lo vedo ce l'ho davanti a ovest 89 ok tutte due niente paracamminatore paracamminatore che è bianco quasi ok uno l'ho colpito sono dietro a quella colline mettiamo la pedana raga come volete se volete bucciare con la pedana io sono a piedi più che altro quindi non vi posso aiutare uno ce l'ho davanti un po' meglio con le granate no scoop brava cosa sta facendo questo cosa vuole fare bella raga cosa vuole fare gg grazie mille mister nif 0 2 vincente pesce per la sub benvenuto nella dpg 3 3 3 nesgher guys ora è venuto dio mio che paura è venuto cos'è è venuto nella dpg 3 3 e mezzo che si è suicidato un 3 ragazzi aspettate un secondo prima di partire amore mi ha preso un infarto si è suicida con 3 amore cosa c'è indovina qual è mente malata ha pensato tutto questo torca ragazzi io ho bisogno di una decina di minuti vi posso allontanare che ho la mia ragazza qui più che altro no perché poi non ve li dico cos'è successo meno male che ero mutato in quel momento meno male che ero mutato fidatevi torno tra una decina di minuti bella scusate mi spieghi ciao bella bella mi muto torno fa 10 minuti no amore non me l'aspettavo dai dura mi hai fatto un sorpresone si amore grazie allora le candeline si sono spense da sole ma perché piacere sono tutto sudato in questo momento sei molto brutta con la fascia da zingara ragazzi guardate amore amore questa è la cattiveria se mi si zozza il tappetino torc che ti avevo detto ragazzi guardate che roba si è storta non so se si riesce a vedere perché l'altro sono tutto zozzo ora non posso neanche zoomare prendi un pazzoletto amore ragazzi guardate che roba sono qua in idea di torc per festeggiare che siamo arrivati a 2000 sub per il record e tra l'altro siamo a 2483 cioè ciao